Naufraghi! Ale, guarda, non so che dirvi. Ma cosa sta facendo Giucas? Vedi che ancora... Ma Naufraghi! Giucas! Giucas! Stai facendola di più addosso! Ma Giucas! Ha avuto un'urgenza, eh... Ma noi abbiamo visto delle immagini sconcertanti! Gli immagini sconcertanti! Giucas, cosa hai fatto? Giucas, guardami, guardami, guardami! Ti sto guardando, sei bellissima! Cosa hai fatto? Dimmi che ho fatto! La pipì! Ma scusami! Giucas, eravate in mare fino adesso! Non la potevate fare al mare, sta pipì! Eh! Non mi uscireva al mare! E comunque ha vinto Giucas la gara, eh! Ah, vinto un figlio che ti guarda, medico, chirurgo! E tu fai queste cose, vergogna! Scusate, abbiamo la prova! La dobbiamo vedere per forza? Cioè, nel senso che dobbiamo vedere sta pipì, va bene! C'è l'amante che vediamo! Sono sicuri di poterla vedere? Eccoli là, li vedi dietro! Eccoli là! Ma io dico... Dove? Sai che non li vedo! Ma Giucas, non me l'aspettavo da te! Cioè, c'era tutto il tempo al mare, ma la dovevi fare proprio lì! Lei è... La dobbiamo vedere! Cioè! Scusate! Chiunции! Chiuncio! 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 Grazie a tutti